Un milione e mezzo per la rigenerazione del fondo agricolo Nicola Nappo, bene confiscato alla criminalità organizzata nel comune di Scafati. Gli interventi previsti sono stati presentati nel corso di una conferenza stampa, a cui hanno preso parte i rappresentanti di Comune Libera e Terra Viva. Questi sono dei segnali importanti, ricordo il giorno dopo la mia elezione sono venuto al fondo Nappo ed è un impegno che abbiamo preso ovviamente con questa comunità. Credo che sia dei segnali fondamentali per la nostra città di rinascito. Il comune di Scafati sarà il soggetto attuatore dei lavori che dovranno interessare questo bene confiscato, riguarda per lo più la rifunzionalizzazione di sette fabbricati che insistono su questi circa 12 ettari di terreno. Grazie a questi progetti noi possiamo dare ancora e sempre di più spazio ai cittadini di Scafati e delle zone limitrofe per poter impossessarsi di questo bene. L'incontro con la stampa è stato anche l'occasione per annunciare la Costituzione della Cooperativa che gestirà le attività sul bene confiscato, a cominciare dagli orti, attività che oltre a garantire un'opportunità sociale, rappresentano il segnale concreto del successo dello Stato sull'illegalità. Il segnale è sicuramente importante, l'utilizzo corretto, completo dei beni confiscati è uno degli obiettivi principali che appunto fa parte della lotta al sistema criminale. È estremamente importante che le autorità e anche l'autorità giudiziaria continuino a occuparsi dei beni confiscati ben oltre il momento del sequestro e della confisca.